E gli altri? Non lo so. Spero siano fuggiti. Finché quei mostri sono dentro, non usiamo quella porta. Che stai facendo? I condotti ci porteranno dentro, e quei cosi non sono abbastanza svegli da usarli. Un problema in meno. Aspetta! Vuoi tornare là dentro? Perché? Bella macchina. Sei un fotografo? In effetti sì, lo sono. Frank West, fotoreporter. Mi faresti vedere qualche foto? Sembra che tu sappia usarla. Ma voi chi siete? E cosa... L'ho fatta vicino all'ingresso. Conosci il vecchio? No. Grazie, comunque. Ah, ehi, non abbiamo ancora finito. Mi vuoi dire chi siete? Sono Jesse. E l'uomo che hai visto è Brad. Non sono autorizzata a dire altro. Non starai pensando di tornare nel centro commerciale. Non mi pare il caso. Ma voi giovani, non mi ascoltate mai. Beh, se proprio devi andare, almeno prendi questa ricetrasmittente. E anche questa mappa. Ok. 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 Ehi, hai visto mia moglie nata lì? Dovrebbe essere qui nei paraggi. È pericoloso qui. Andiamo. Con me! Andiamo! Jeff! Jeff! Grazie a te, ma stai bene. Non ti abbandonerò mai più. Grande. Con me! Ehi, voi due, potreste darci un taglio con queste smancerie? Qui siamo in pericolo, ma conosco un posto sicuro. La sala sicurezza. Seguitemi. Andiamo! Con me! Non entrerò mai più in un centro commerciale per il resto della mia vita. Ne ho avuto abbastanza. Andiamo! Quei mostri sono ovunque. Ehi, sono Otis, dalla Parasicurezza. Mi senti, Frank? Ti descrivo un po' il centro commerciale, così puoi orientarti meglio. Dalla parte opposta del magazzino c'è Paradise Plaza. Ci troverai ristoranti, port, librerie e tanto altro. Il centro commerciale è bello grande. Se ne hai bisogno, usa i bagni pubblici. Sono segnati sulla ma... Zombie, eh? Sapevo che saresti arrivati. Dio! Jesse! Ehi, non farlo mai più! Hanno attaccato Brad. L'ho localizzato sui monitor. Deve essersi slogata. Vado ad aiutarlo. È spacciato. Bene, ok. Dammi la pistola. Ehi, è colpa mia se ti sei fatta male. Ti aiuto? No, non posso darla a un civile. È contro le regole. Sì, ma non penso che avessero in mente centri commerciali infestati da zombie quando hanno scritto queste regole. Sai usarla almeno? Un po'. Sono stato in zone di guerra. Senti, dopo averti aiutato, io e te faremo una gran, bella chiacchierata. Senti, dopo averti aiutato, io e te faremo una gran, bella chiacchierata. Ah Oh E E E E E E E Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ottimo. Grande. La tua ragazza mi ha mandato a cercarti. Chi? Jesse? Merda! Ok, ne parleremo dopo. La sai usare? Non ho mai sparato a nessuno. E va bene, io ti copro da qui, ma devi rimanere al riparo. Avvicinati al bersaglio, ok? E una volta vicino, che faccio? La cosa migliore sarebbe sparargli. Ma se non te la senti, cerca di tenerlo occupato e sta attento. Pensi di farcela? Me la cavo meglio con le foto. Ma va bene, ci provo. D'accordo. Appena ricarica... Ti do fuoco di copertura. Conto su di te. Arriba laggiù. Uno, due, tre! Bel lavoro, reporter. Bel lavoro, reporter. Continua così. Ti copro io. Cerca un'apertura. Seguilo! Non lasciarlo scappare! C'è un'apertura. È scappato. Ma chi era quello? Non lo so. Beh... Ti ringrazio. Sono Brad. Frank West, fotoreporter. E adesso che ne direste di una spiegazione? Mi dispiace. Non ho niente da dire. Senti. Non so che cosa ti abbia detto Jesse. Ma per quanto mi riguarda, noi ci separiamo qui. Tu occupati del tuo scoop. Penseremo noi al resto. Voi state cercando qualcuno qui, vero? Chi è quello? Dove l'hai scattata? Aiutami e io vi aiuto. Cazzo. Sei il solito giornalista, vero Frank? Ho un paparazzo, esaltato, testardo e suddolo, che non ha niente di meglio da fare che farsi i fatti degli altri. Ci provo. E con questo? Hai vinto tu. Sei dei nostri. Io e Jesse siamo del DHS. E sì, stiamo cercando l'uomo in quella foto. Sicurezza nazionale. Quel tizio è un terrorista. Ho fatto quella foto all'Entransplasa. Alla porta principale. L'Entransplasa? Sicuro. Ehi! Posso occuparmi di questa storia? O no? Ma... Grande! Grande! Palavria? C'è selvamore? Sì! Vesta sera morto. Sì! Frank, ci sei? Sono Otis, il custode. Ho visto un ragazzo aggerarsi a Paradise Plaza, a una macchina fotografica. Sì, esatto, avete scritto bene. Grande. Grande. Con eventi e giochi per bambini di tutte le età. Centro commerciale Willamette Parkview, dove i sogni si avverano e gli arcobaleni entrano gratis. Grande. 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 Andiamo! Grande. Andiamo!